Il sostituto procuratore del Tribunale di Lecce, Massimiliano Carducci, ha conferito l'incarico al medico legale Alberto Tortorella di eseguire l'esame autoptico sul corpo di Maurizio Miciali. L'operaio 47enne originario di Colle Meto, morto in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di mercoledì 23 ottobre in via Modena-Galatina, mentre stava eseguendo alcuni lavori su un cantiere. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine intervenute sul posto insieme agli ispettori dello Spesal, il 47enne sarebbe stato travolto da un camion in retromarcia durante le operazioni di montaggio dell'impalcatura che sarebbe servita a effettuare dei lavori di ristrutturazione alla facciata di un palazzo. Per permettere di eseguire l'autopsia fissata nei prossimi giorni in quanto atto dovuto è stato iscritto nel registro degli indagati il conducente del mezzo nonché titolare dell'azienda presso la quale lavorava la vittima per ricostruire la dinamica dell'incidente, inoltre è stato conferito l'incarico all'ingegnere Lelli Napoli di eseguire rilievi ed analisi tecniche per individuare ulteriori elementi utili alle indagini. Quest'ultime dovranno accertare anche se il 47enne abbia accusato un malore prima di essere investito, se sia finito sotto il camion per l'errore di qualcuno e se accedere sia stata anche l'impalcatura presente sul mezzo. 60 i giorni per il deposito delle perizie a cui prenderanno parte i consulenti dell'indagato difeso dagli avvocati Daniele Sindaco e Luigi Covella e dei familiari della vittima rappresentati dall'avvocato Roberto Tarantino.